Ciao amici, oggi vi mostro com'è possibile tagliare un video con un'app Android in pochi, semplicissimi passi. Questa è un'esigenza che ho per questioni personali e lavorative. E l'obiettivo di questo breve filmato che farò è farvi vedere qual è l'app gratuita oltretutto, che è possibile utilizzare, come tagliare il video e quale formato di video creare per ottenere il miglior compromesso tra qualità e dimensione del video. Questo perché volendo utilizzare un video senza dover disporre di troppo spazio, bisogna trovare anche un giusto compromesso tra la risoluzione che oggi ormai i moderni strumenti che abbiamo ci permettono di portare fino a 4K, ma i video di 4K risultano spesso particolarmente pesanti e dunque quasi inutili se vogliamo avere ad esempio dei va-de-me come dei piccoli manualetti, dei piccoli tutorial che quindi non necessitano di una risoluzione e di un relativo peso così alto. Dunque, bando alle chiacchiere, passiamo un pochino più al sodo. Dobbiamo prima di tutto procurarci l'app, l'app si trova direttamente sul Play Store, in questo caso sto utilizzando Android, e l'app è quella che vedete, si chiama KineMaster. Dunque, apriamo, quest'app ha quest'icona che vedete, apriamo l'app ed entriamo nel menu di KineMaster. Come vedete qui c'ho dei miei progetti, però poco conta. Dobbiamo creare un nuovo progetto, quindi premere questo tasto qui a sinistra, scegliere la tipologia di progetto che vogliamo fare, nel nostro caso, visto che saranno video da utilizzare, da rivedere poi su dei computer, dovranno avere un formato 16 noni, questo qui. E a questo punto ci viene chiesto di selezionare il video che intendiamo tagliare. Nel mio caso c'ho una cartella che ho chiamato ultima registrazione, mi dà un po' di avvertimenti ma chi se ne frega. Selezioniamo quindi alla fine premendo la X, il tasto di spunta se non si blocca prima, scusate, ok. E quindi questa è la totalità del video che dobbiamo andare a gestire. Ora, nel mio caso ho necessità di estrapolare degli spezzoni, piccoli spezzoni. Quindi per l'occasione faremo un tentativo, o meglio, creeremo un piccolissimo spezzone di pochi minuti, giusto per farvi vedere come funziona. Qui, come vedete, questa è la schermata principale. Dopo aver importato il video qui in basso, vedete che posso scorrere tutta la timeline del video. E dunque, è necessario selezionare l'istante di inizio e l'istante di fine del video. Ipotizziamo di voler partire con dove sono adesso. Quindi vogliamo tagliare il video a partire da 30 secondi. Come si fa? Si seleziona questa tendina del video. Dopo averla selezionata appare un menu degli strumenti e qui in altro è possibile vedere una forbice. Proprio quindi che ci permette di tagliare il video in corrispondenza del cursore, questo rosso, che abbiamo qui adesso. Quindi 30 secondi, 668 grosso modo. Premiamo la X e gli diciamo di tagliare il video all'indicatore di riproduzione. Ok. Adesso andiamo a cercare l'istante di fine del video. Per esempio ipotizziamo di farlo di un paio di minuti, quindi 2 minuti e 31 grosso modo. In corrispondenza di 2 minuti e 31 andiamo a posizionare il nostro cursore. Niente di più facile. Di nuovo dividiamo l'indicatore di riproduzione. Quindi ripremiamo lo stesso tasto precedente. Abbiamo adesso diviso il video precedente, il video iniziale, in più spezzoni. Come vedete, il primo piccolino, il secondo che è quello che abbiamo utilizzato noi e poi il terzo che è il resto del video. Volendo esportare solo lo spezzone centrale, perché abbiamo ipotizzato di poter tagliare solo questi 2 minuti di video, andremo a cancellare il resto del video. Quindi selezioniamo l'ultima parte del video e la gestiniamo. Selezioniamo la prima parte del video e la gestiniamo. Resta solo la parte centrale. Fatto questo, dobbiamo rendere questo spezzone di video esportabile, quindi caricabile da qualche altra parte, che sia YouTube o che sia Teams o che sia quello che volete voi. È sufficiente premere il tasto in alto a destra, questa freccettina, che ci permette di fare l'export del video. Ora, come vedete, qui ci sono un po' di risoluzioni che è possibile selezionare. Per avere una qualità decente, quindi una qualità buona, senza però avere troppo spazio occupato sul disco, è sufficiente selezionare una risoluzione HD, quindi a 720p, questa che vedete a sinistra, e un frame rate di 30, quindi 30 frame per secondo. In questo modo, il video di due minuti ci viene a occupare circa 21 MB. Quindi, dopo aver fatto questa selezione, è sufficiente premere Export, il programma si metterà a lavorare, ci metterà un po' di tempo, e creerà un file video che possiamo ritrovare direttamente in galleria e che possiamo poi utilizzare per i nostri scopi. Ripeto, quindi per importarlo su YouTube o per importarlo sul nostro blog, oppure dove preferite, o su un canale Teams dedicato, come probabilmente farò io. Finito questo, torniamo nella galleria della nostra... Io lo sto facendo con un tablet, però la stessa cosa sarà la galleria del vostro telefono, e ci sarà una cartella che si chiama Export, che viene creata proprio dal programma KineMaster, e questa cartella conterrà il video che abbiamo appena esportato. Quindi, fatto ciò, con questo file possiamo poi procedere nel modo che preferiamo. Vi lascio in descrizione il link all'app sul Play Store, e chiaramente se avete dubbi o altre curiosità, scrivetemi e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti! Ciao a tutti!